sasso buonasera tu vivi io muoio allora no aspetta no ho sbagliato qualcosa tu vivi e io muoio no non ha senso ma gli altri due cartelli vabbè dai cartelli mettiteli nel cuo tanto benvenuti in un nuovo episodio della doc craft sasso non inizia a scassarmi che stasera guardi io parlo dalla lab io sono il rappresentante della lab allora le precole non ne possono più dello schiavismo andiamo a liberare ti faccio vedere aspetta devo almeno mettere un po' di un po' di songs un po' di songs metti i megalogal dobbiamo liberare le precole vieni un attimo con me è importante abbasso un po' della roba vieni perché io non ho mi dica mi dica mi dica ma scusa tutte le patate che avevamo raccolte le avevamo raccolte non ripiantate me ne dai un po' le ti aiuto a ripiantare e dopo prima dobbiamo liberare quali dalla tirannia quali pecore scusa sono delle pecore da liberare lo schermo intero soldato sei stato in cura o no il soldato allora o il terror dobbiamo liberare queste pecore è spuntato il terror sasso sì ecco una pecore da liberare vieni qui terror si mette a parlare un po' più alto perché non si sente niente guarda vieni qua che ho detto che ho messo a posto il telefono bravo poi mi farai vedere che ti aiuto a configurarlo un po' l'ho già configurato no nel senso robe sus robe belle dai muoviti che le pecore ma sto prendendo le robe dico l'ho preso prima alle 7 non è importante dobbiamo liberare delle pecore prima l'ho acceso l'ho configurato non ho neanche non ho installato whatsapp nulla eh vabbè è di fabbrica guarda fermo vedi questo asino bianco e aspetti sasso e lele questo server è la vanilla che portiamo avanti già da un po' però la doc craft quindi doc e io basta allora questo asino bianco sta tenendo prigioniera la pecora grigia dobbiamo liberarlo vai vola libero nel valala e adesso porca futta è stato bello vero ti sei divertito mi hai fatto perdere tre cuori oh no adesso come farai fuoco di arfai giuro che ti insecchio ti faccio finire dentro il secchio ti è no che bello l'utilizzo utilizzare la magia per sparire l'ho fatta te terror lei da quando è in diamante ecco perchè terror la mia armatura vero la mia armatura manca l'armatura in diamante adesso te la ridò aspetta davvero eh ormai tienitela me la son dovuta ricraspare vaffanculo adesso è mia è una me it's not it's in a chest quindi io prendo e rubare tutto ho bagato res che bello ho bagato res ho messo crimini contro schermi oh spero di no come ti giustifichi di questi atti onesto onesto oh no traditore attacca ah 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 e e non sto capendo se vedo un colli***o che picchia un altro colli***o o uno stupido lele spero non si ho già letto terror ma leggi leggi martis ho già letto allora rispondi ho già risposto allora io dovrei incantare l'armor cosa aveva il mio piccone mi fico insieme di roba no i miei cattelli terror sappi che mi vendicherò mi devi 24 diamanti come vendico ah è vero è unbreaking 3 unbreaking mi fregno la gara come la merda devi lavorare vieni con me io farei unbreaking qua arrivo fire protection fa schifo io sono un qua c'è un no non si può dire pronto qua non si può dire non si può dire dimmi che non hai finito la parola ti prego ha detto stepstrider ok sì però leggi la chat il negozio dai pianta le patate no quella chat eh vabbè ma le le dammi le patate ho appena letto prima dammi il secondo dammi le patate allora questo me lo tengo così non me le hai date ah sì che me le hai date del metto vorrei cambiare perché si è rotto un pezzo di tè un po' di tè ma per cosa è la coca cola in l'inventario pronto 3 mi devi dare una troppa no ci penso io a quello di inizio io finisco buono armor oh error devo andare a prendere la terra per riparare dormite tutte e due sto cercando la mia sella ma mi è sparita la sella massa ah ecco la sella dormire il terror non parla ha detto che andava via o no eh dormire terror anche lei dobbiamo chiccare il terror lo chicco no il devo fare il volevo prendere ah eccolo terror l'ho chiccata per dimbo dimbo ma abbiamo dormito ma ma che questo chi se lo ricordava vabbè vabbè dai ci sta anche messo così eh fa se che dà una tonalità figa il il tavolo allora decidetevi dove lo volete fare sto portale questo è texture cioè con le shader c'ho un bug di feather marty no aspetta 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 prima il doc fa finire il doc c'ho sto problema tecnico si che tipo è quando te apri il menu shift di feather con le mod però si bugga e quindi non vedo niente non posso cliccare niente tipo tutto bianco no è trasparente ma non va eh non saprei rientro subito che succede leile che c'è non ho niente da giocare eh tante a follo potresti giocare a cyberpunk alla alla roba cioè almeno questo venite qua cosa devi fare con il legno no perché mi seguite non lo so è complicato sapere di restare là sì la significa là ora sono là dai dai vai al portale non è complicato questo è il portale cazzo l'altra parte terror venga dai bisogna fare una cosa cinema scommetti che te lo becco one hit ok bravo non si è accesa l'altra torcia però no ah non ci arriva l'input di rest vabbè ma prima si era accesa perché ah non l'ho fatto cento però carino ci sta ma ce li facevo tipo ma guarda la freccia dove è arrivata dal terzo al secondo anello mia grazie tu the nether arrivo io no ah io primo non carica bioma rosso cosa cazzo picchi stru ok io ho già l'armor in ferro è poca vita terror sei scemo sei scemo sei scemo idiota ma io ho portato Gino guardate che ho portato Gino è lì bellissimo ecco mi salvo le coordinate del portale è un olore potentissimo guarda vista quanto fa allora 187 vabbè screenshot o ce le salviamo da qualche parte ah raga io posso travelare il nether voi no poveri questi me li ciudo perché sono anti zoggin e piglin andiamo di qua è vero ma non abbiamo un pezzo di oro ma raga dove siete ci attaccheranno i piglin ma a dettagli ma porco giù ma raga ma dove cazzo terror siamo qui e io prenderei un po' di legno e qualcuno che si è salvato le coordinate del portale e ho fatto lo screen salvo io salvo io salvo io grazie dell'aiuto sempre gradito ma il bruno io prendo un po' di legno venite giù o vi devo pagare in oro e aspetta prendo il legno ok scendiamo io sto aspettando ah di qua di qua di qua io posso terror navigare nel mare dove sta andando di qua error vabbè lasciamolo lì dai aspetta bellissimi i funghi 3d lui c'ha 4 giga di ram dai poverino lag cioè non il computer la testa appunto no io ho 2 giga di ram vd r3 oh bastione viva il bastione dove vedete che se si va dove di qui trovate le migliori cose io non lo vedo tutta l'amazzonia dove possiamo fare la speedrun aspetta 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 ah là in fondo buttatevi da qui perdete un core ma io ne ho già 32 non abbiamo facce di oro ma nessuno ha un pozzo di oro ma io faccio così aspetta aspetta uso la mia arma definitiva Gino con un fungo guarda guarda non lo spaventa Gino è spaventoso ma il mio fungo pezzo di merda mi hai fatto a uccidere Gino grazie e raga io li saluto me ne vado eh raga guardate che cosa ho mi serve uno style però tu non ho a canna da pesca tu non ho a sella scusa ah tu ho a sella te si te lavora pure scava robe e poi fiao marty fiao terror vabbè dai 40 di legno va bene fiao luca quindi già oggi andiamo al bastione ok e ormai tu devi dare lefta mangia la mela e adesso per vendicazione tieni grazie ma ma aspetta non pensavo se la lava allora me la ridai anzi no meglio se la tieni o ne hai già no 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 ti giuro non pensavo se la lava sotto terror non potreste rompermi l'armatura per favore terror che fai no rimettete l'armatura mi potresti tirare un po' di pugni vorrei cambiare l'arma no le spadate idiota che sei scemo vabbè tutta dalla prima all'ultima che tipo di scendizione ha lui non lo so però noi non scaviamo così non so perché mi sono da tutta la mano sinistra lui ha poderosamente feather falling 18 no io non c'ho niente aiuto c'ho solo depth strider sui piedi ma basta porto c'ho depth strider e un braving ah perché resti lì oh non mi toccare per favore ti aiuto e te no venite qui adesso gli piace essere toccato io picchio occhio aia bimbo di aiuto 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 mi saluto è stato un funny moment mi sparano col ferro te l'ho mandato più vicino no 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 mi sparano col ferro dai aiutano a non morire tento dietro terror ho un cuore tutti abbiamo un cuore oddio ma su minecraft siamo tipo strani perché dieci cuori hai ragione oh raga macchina telecomandata ciao vi saluto marca le gambe ciao no tien aiorda no brutto peso di mierde tento che ti tira giù io ti ho avvisato ma è cresciuto in un minuto ma il sasso è già andato al bastione vabbè io l'ho detto che scriveranno eh vai lavora schiavo io non lo blocchi tieni ma poi fa pensiero tu già qua scarsi la blocco io anche le metto in diamantologia schiavo essere fatto per lavorare ma dai io aspetta terror guarda no non lo vedo più ma io blocco invisibile vai tranquillo io lo vedo blocco ma siamo in easy ma io lo vedo blocco cos'è uno stable un housing un treasure sembra un bridge non è un bridge attento alla cascata dietro attento a dietro la cagata del terror vai terror ok può andare alla isoletta oh io mi sto già lutando tutto la barca con le gambe ma solo io non so non sono bravo con il bastione e terror attenzione ci sono i porci attento al porco che il bruto per il porco lo ti fai di te è vero terror ne tira di porci vai subito su allora fai un pillar attenti ai brutti eh però siamo in easy quindi i brutti non fanno un cazzo di danno fa più danno alla caduta che i porci lol marto dove sei sto andando al bastione aia oh no ci crepo ci crepo ci crepo anche io scappa ci crepo ma l'ho visto l'error mode la rifai tu l'armor però eh sì sì non toccare i miei materiali è stato bello salutarvi vedervi e cantare perché no dica dov'è che la salvo sasso allora fermo sali in alto sali in alto torna indietro torna indietro è un porco torna indietro dove ti vedo in ritardo torna da dove sei entrato ok vai da dove sono dove sono entrato ah scusa ti vedo in ritardo allora scala su cioè vai su vai up vai up fai up su nel senso un attimo dai vabbè io vedo tutto i ritardati ecco c'era in un buco molto easy da battere oh cazzo lo devi stare al vento sopra oh no no lasciamo stare lasciamo stare vai lì sopra ah ok allora ricordati le puoi knockback lì giù lì giù lì giù c'eri 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 ok porco non ciullarti mentre io sono fuori no non ciullo niente terror lei ha compreso che se lei tocca io fa boom boom ma perché va a 3 fps vabbè dai dove devo ti do il consenso di rifarti l'armatura in diamante con i miei diamanti no no non stai facendo questo vado perché devo andare a dormire mi prendo anche per me la scuola dove terror e sasso fermati fermati no facciamo così ti metto la condivisione perché sennò vai solo in ritardo la vedi vai cosa allora indietro destra ti guido io qui vedi quel pillar lì di cobblestone a sinistra dove sinistra si vedi ecco scendi lì giù c'è un buco fermo girati intorno vedi quello lì in basso dove aspetta fermo fermo si dove c'è il piglin no dall'altra parte più avanti a destra sopra destra allora sotto il ponte qui alla tua destra destra sono dentro il bastione ah fermati allora buttati lì no ci sono i robbi e va bene non puoi ciao allora scendi praticamente ci sono tre piani adesso ti avrai uno e l'hai sceso sotto questo piano posso guardarle c'è intanto c'è se non vuole toccare che c'ho io le tramogge per estrarle tutto senza venire sgamati faccio giusto una piattaforma così che non torno non ho più i cosi dimmi dimmi fatti un buco lì passa allora minchia quanta gente c'è lì c'è un buco più avanti alla tua destra sì lì sotto sì no 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 lì non lì aspetta più su era il primo buco che avevi alla tua sinistra vedi quello qua lì dentro controlla che sia clear ok ok allora posso provare a rientrare ok oh attento non mi piaccio no no chi ti tocca no è perché magari pensi sia un oglin piglin strano e no no hai qualcosa d'oro e c'ho solo l'ermetto ma mi sa che servirà poco appunto meglio se ti tieni l'armor allora addio santo sti opi zogli poi in tempo si chiama pigman era più che sì adesso è pigman zombie tipo non aprire non tocco no no io non tocco vabbè lasciami qualcosa le carote posso prenderle che mi piacciono vabbè dopo ce le dividiamo sì sì balestra la carota un po' di freccia ascia vai 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 questo non ci serve le chain chi se mi frega ma lol vabbè tieni era vuota lo sai che potevi tranquillamente qua c'è un soul speed e basta ossidiana boh non lo so non avevo voglia di tanto i piglin resteranno incazzati lo sai son contento che ti sei preso il robo di nederite almeno non mi romperai le palle ma se vuoi in realtà poi io faccio così scarico la crossbow o almeno con sicuro che non ti spar no vabbè tanto io lo tengo in una dei sei una cosa figa che dall'altra parte di questa bastione c'è una dove? se piance dove è la fortessa dove? alla parte opposta di un bastione penso sia ah vabbè nord est secondo me scendiamo? ah ma bisogna ancora finirlo di lutare lo sai vabbè io provo a lutare il sotto vengo con te vedi perché le belle hai blocchi pensione alla lava no no il fungo crimson cazzo mi serviva qui c'è della soul sand prendo la soul sand perché ci facciamo la piantagione di eh prima allora devi trovarti la roba la netherworld dovrebbe star sotto al centro in teoria perché è una di quei basti non è non è un housing non è un housing non c'è non c'è caristo mi sono attio spaventato che è successo? non è un housing eh ma è pari ho hitato il microfono nel tentativo di tremero ah mi sono spaventato perché mi è volato una roba davanti lo schiero no ci sono i porci volanti cristo sono cascato in basso vabbè guardo cosa c'è in basso oh no mi serve una mano arrivo cerca di non crepare eh vedo il coso ma attento che sta arrivando ti tappo ma il bro è parzialmente scremato non hai della lava dovremmo picchiarlo però questo è parzialmente scremato non mi chiede perché però mi rimane in mente mi faccio una roba d'oro ah e aspetta ti salvo con dell'acqua scendi qua acqua scherzo mi serviva per la lava non so cosa craftare i piedini fatti i piedini dai che spendi meno questo eh si sono quelli che hanno la minore protezione qui c'ho anche fire protection eh si i piedini cosa c'era qui in questo slot non mi ricordo boh tante ricorde non ne ho idea boh ci tengo le mele d'oro c'è non le mele d'oro le carote d'oro così se devo rigenerare ma che sta succedendo che c'è ma lo senti anche te cosa senti sto rumore vieni da me stoppo la musica aspetta togiti la crafting vieni qua da me no non scendere non scendere dove ma si sono completrati 8000 cose ma che è successo qui sotto fermo ma è solo questo rotto aia dietro di te non ho capito che cosa minchia sia successo vabbè abbiamo luttato tutto mi sa si faceva un po' schifo vabbè c'è una balestra la vuoi ce l'ho già a full e usciamo da qui vogliamo andare ti dico se trovo qualcosa di interessante in che senso no la mia sella ho perso la sella e sei morto ci credo no non sono morto io tu no è vero no non sono ancora morto l'avrai lasciata sullo strider l'avrai lasciata sullo strider no ha ucciso lo strider allora sarà andata nella lava eh ma è morta la sella che cazzo controlli se ce l'hai no no non ce l'ho cazzo cazzo è l'unica santa volta che mi preparo una sella e una canna da pesca per girare nella lava e flexare la mia nuova Lamborghini mi dai un minuto vado in bagno veloce mi tappi per favore arrivo eh io faccio i giri veloci invece chiamami fulmine e ti farò bruciare ma non ho preso mi prendo un po' di blocchi ok dove sei allora ti propongo nord est cioè scusa sud est nord est nord ovest scusa sud ovest nord ovest sud ovest no hai una possibilità su due di beccare una magione una magione una fortetta nord ovest preferirei sicuro è di qua però boh è uguale cioè nel senso non lo so mi ispiro di più il nord oddio forse è più è meno rara trovarla nel bioma standard quello con la nether a che basta che in quell'oro cosina letteralmente oh bioma eh sì ma lo sai che se troviamo quello blu facciamo hot talk vediamo un po' sì ci mancano i biomi ci manca quello dov'è che sta nel nether sì due biomi quindi cosa manca cosa ci manca il basalto il basalto è il bioma blu perché siccome esiste anche soul sand ma secondo me non conto una volta prendo la soul sand ti è piaciuta la mimetazione della soul sand dimmi di no sono bene aspetta ok ah madonna io adesso tiro Gino no no ma Gino ha perso la sua sedia io mi tengo questa guarda è in piedi è finito ma è compenetrato con la soul sand non ha la base lo sai che è quasi quasi ma sai cosa hanno fatto di utile nella nuova version tralasciando tutte vabbè le armature particolarissime io non le ho ancora viste non voglio vederle per spoilerarmi roba per caso se l'ho fatto vedere oggi e ho visto poco o niente nel senso vabbè allora ti dico solo che c'è tipo hanno calcolato più di 2 milioni di possibili armature castabili 2 milioni sì perché sono l'armatura il leather più quella il diamond vabbè sono sono variabili non ne abbiamo uuuh tarzan tru 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 aia fa male però buttati ai te buone mea buttati no genius ole c'è ciccio pasticcio qua che mh ma lì non c'è nulla dove vogliamo andare sempre in nord ovest e beh sì è opposto al bastione intanto però esplodiamo anche se poi non troviamo la fortezza ma intanto abbiamo vabbè se troviamo un altro bastione prendiamo tutto loro ci servirebbe due stelle Aspetta che rifletto un attimo Come Da qui Vai su Eh vai su Vado su così Di buttare in mezzo No Io tengo già la spada in mano Li sento qua Aspetta Prima di aprire le ceste Faccio un salto su A vedere se c'è qualcosa Io vedo di tappare l'entrata qua Così non dovrebbero poter salire Aspetta Vediamo che c'è di buono Niente praticamente Prendo l'oro Ma l'entra come ending Elmetto d'oro Frecce Mi prendo io Grazie Il magma Chiudo Aspetta con questo facciamo così Banner pattern Sai che non fa Schifo Oh Non muore Eoh Mamma mia Vai Adesso ho una balestra con me Mi sento più potenziale Oh E' quello con le netherworld Oh Visto che andare al nord est Ci ha portato a qualcosa Ho un bastione migliore Anche se non era quello L'obiettivo Principale Butto qui un po' di roba Ho il fungo Me lo tengo Tu hai mele d'oro Hai mele d'oro Si o no No Tieni Sasso arrosto Mi hai spinto idiota Dimmi quanti cuori hai 4 Per buttarti Sicuro Dai che sopravvivi Non fa male Ho perso due cuori Vedi che schifo Vedi che schifo un pochino Di cosa Alla Chest L'ha proprio io Preparati all'assalto Alla chest Saranno 23 blocchi Ci sono le netherworld Eh lo so Un bridge No un housing Scusa Però ho visto housing più belli Ti sei già buttato giù Ho due cuori Che è successo? Sono vivo però mi devi uccidere brutti Ok ma aspetta Vado con calma Sì ma è che Non volevo buttarmi Ah sì Un attimo Fammi bere dell'acqua Perché sudano le mani Volevo buttarmi Ma non volevo buttarmi Sasso Una domanda Eh Ti fa live pomeridiana domani Che io la sera non ho Sono fuori Vesteggio compleanno del babbo 4 febbraio Per ora Eh Sasso Esca Mi è andato giù Minecraft Ma questi con l'oro No no che tradano Uccidili Ma Ti sono rubato Sasso posso fare magia Sì Oblivio Aspetta Voi Non avete visto niente Aspetta Vai riprenderti la roba Ci metto un attimo Me in Minecraft A capire che Oh Che magia Che cosa mi si è bruciato Spero niente Attento Poca roba Lì con l'armatura Questo Non buttarmi Non buttarmi L'armatura Banner Cosa c'è qua Un cazzo Aspetta 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 No questi vanno intrappolati Ti faccio Un buco Per questo Aia Aspetta Ti hanno tipo tradato Tutti i blocchi d'oro Vabbè ho perso l'elmetto Mi sa che ho perso l'elmetto Ma vaffanculo Ti ho rubato la spada Per sbaglio E un pezzo di armo Aspetta Che adesso ti do Spada E basta Tieni La spada Di diamante Qua Prendo le netherworld Aspetta Che ho Allora Mi manca Un botto di robe Dimmi perché io non so Cosa è bruciato Tutto Tre crafting table Non ti chiedere cosa ti faccio Per favore Un pipo Sol speed 3 Sol speed 2 Non vuoi il suo speed Due volentieri Ossia no Non ho capito Si volentieri Ce l'ho già Sol speed Ah ma questo Libro Ok Ma è che letteralmente Io gioco a minecraft C'è Vabbè anche te Nel panico Quando sono orientato Ho provato il testo windows E quindi mi ha tirato giù minecraft E niente Aspetta che questo Lo buttiamo giù nella lava Aspetta Il brutto non ha capito Le nuove regole Ti fai Gambale o qualcosa Di Piazza crafting Ti faccio io la roba d'oro No Mi hai fatto Lo spectino Si ovvio Grazie Aspetta Vabbè rubo io la craft E il tuo secchio di lava Lo sai che abbiamo perso La tua spada E Mi pare basta Aspetta Eh vabbè ho perso i pesci Pesci uno 14 Che era Ce l'avevo già prima Eh no C'è uno stack di pesci Eh allora Quello è morto E basta Mi dispiace Adesso non ve lo ricordo E vabbè dai Non devo giocare Fuspera Eh si Ma lo sai che io Avevo preso per precauzione Due scudi Uno se ne è bruciato Io piuttosto Quando non riesco a leftare Faccio alt F4 Eh ma ci metto un attimo A caricare invece Cioè Non è istantaneo Non so a te però Aspetta Fermo un attimo Ah è istantaneo Cosa Alt F4 Eh si Eh ma non Non ti tira giù il gioco subito Però In che senso Cioè a me mi rimane un secondo aperto E ho da farlo crashare Vabbè in un secondo Non penso crepi No ma proprio Ti quitte istantaneamente Ma la finestra Ti rimane aperta Finchè non la Vabbè se ti quitte È istantaneo Va bene L'importante è quello Torni Ma che poi io C'ho un problema con Minecraft Sì Che adesso ti faccio Un ottimo vedere Quale Se puoi o no Che Non lo so Condivisione Ma non è neanche Su hard disk Su ssd Andiamo a vedere Il problema del sasso Eh Facciamo così Aspetta Vediamo un po Quale Mi spieghi il motivo Del perché se premo Disconnect Sì Resta fermo così Blocca Per un bel po Non lo so Vai così Premis Esk Vai nell'alto a destra No no Non option Alto a destra Sono qui Disattiva quella Quella sì Prova adesso No comunque Non lo so Ma proprio in tutto anche Perché tipo Quando te Prima hai fatto Eseguito Guarda io sono istantaneo Cioè quasi Anche a me fa un leggero momento Di caricamento Prova Per vedere Guarda No adesso l'ha fatto istantaneo Ma io prima Prima ci ha messo Pochettino Posso tornare Sì sì Te fai No È proprio un problema Anzi Se metti Chunk a 2 Ci metti anche di più Lol Ti dico Riesco a tenermi La tua condivisione Quindi better Così Così Ma tipo Se limitano gli fps Magari forse Boh Eh ma perché Hai 64 chunk Sì Mettili a 32 Ma anche a 2 Ti ho detto Che ci mette Ma lasciali a 32 Comunque Che ti servono 64 Il processore Continua ad andare In calcolo Per cercare altri chunk Eh ma io Esplosivamente Mente Adesso ho scoperto Che alto F4 Oh minch Quanti blocchi Dovrà cogliere Per riempire Eh ma abbiamo dimenticato Un blocco qua Lo so E' vero Nello scappare un attimo Ci siamo dimenticati Che qua ci sono altre 2 Vero Eh Oddio santo Vai giù Giù di qua Giù di qua Che hanno Scometti Alla Dove Ma ho visto una cesta Anch'io Eccola qua C'è anche un blocco di ferro Dentro Vabbè dai Non lo butto via Io ho preso soltanto Le carote Vuoi le carote O Non ti servono No Però la tenete E' molto Oh Mi presti una fregge Due fregge Ma qui c'è Sissio Chi va Vado io Tu vai tardi O vai presto stasera Eh Tardi Ok Chest Another Sì Ah no Quella è Quella del mezzo Niente Esploriamo Eh Sì Però O vogliamo fare corta Eh però Non lo so Non so che fare dopo E allora continuiamo Però dai Eccolo Il gast Però sai cosa Tra poco si è asceso al nether Non troppo poco Eh Però Vabbè una mezz'ora 40 minuti Perché vorrei Devrei fare una cosa Finire la mia torre E fare il passaggio segreto E di mettere Posso aiutarti alla torre Ah va bene Ma perché non facciamo le barche Perché non abbiamo il legno Io sì Ne ho un botto di legno Fare due barche Possono fare con il legno del nether No Allora farò con il legno normale Bene serve precisamente cinque No Sì Lo sapevo che Una mezz'ora Vai andiamo Cosa non è Ah mi ti è bruciata la bacca Oh vieni o resti lì? Arriva Prendo un grustin table Crustin Grustin table Salii Perché non sali Oddio no Aspetta Oh per dirvelo Oh Ehi ma ci manca il bioma blu Non abbiamo ancora trovato Che merda Che merda Io adesso ti do fuoco Dov'è che avevamo il botto Nel bioma di cobalto Io andrei verso Est No ma dov'è che avevamo il portale Nel bioma del Del cobalto Ah nella scorza Nel foro Attento Ehi attento Un zecchio di lava Lo vuoi? Oh ho fatto due blocchi di salto E' tempo di sfoggiare Il mio nuovo veicolo Della aeronautica Io penso che Levo le shader Ricordati che oltre i 50 blocchi Prendi danno Sì Stepnic è morto Nella vanilla sua Ecco Adesso mi hai messo il dubbio Sei contento? Sei contento? Please chunk vi generate Fermo Voglio provarti Alla scommetto La tua pozione di cura Che oltre i 50 blocchi Non prendi danno C'è un portale Alla Scommetti che oltre i 50 blocchi Non prendi danno? Secondo me si Cioè non oltre i 50 Però a una certa altezza Si Se perdo io che cosa vuoi? Niente Non scommetto niente Vabbè dai proviamola Però secondo me Si Prende danno Vai a vedere Voglio Voglio che tutti vedano Vabbè scendendo da qui In teoria no O no Ho sbagliato Aspetta Mando il live La tua discesa Vai Quanto è lì? 100 blocchi Guarda Successful 101 Allora Boh In teoria dovresti Crepare o prendere danno Difficulty Perché difficulty? Hard Così c'è anche Ma che c'entra la difficulty? Vai a vedere il video di Stepney Dopo linkamelo Avrà qualche modo Vai a 300 blocchi di altezza Aspetta Ma non è che Aspetta Ma c'era una roba particolare Con i 50 Per me la ti va a provare È vero Tipo con i 50 Prendevi Ma si è sicuro Sia nel modo Boh sì Minchia Cambiare a survival è difficile Hai visto? Ma che schifo Che schifo Ti dico solo che schifo Non aveva niente senso Quindi Aspetta Oltre i 50 blocchi non muori? Ma sotto sì Cioè Se sono 50 precisi sì E con il minecart Scusa un attimo Dici che muori? Non lo so Dove è andato a finire La tua condivisione? Eccola qua Minecart E vediamo Allora Una è 100 L'altra è 50 Allora ricordiamo Con la barca muori Quindi Minecart Boh non lo so Con minecart Un secondo Ma è il più lento a scendere E se preme i W Si rallenta Si muori Ok E andiamo La puoi fare con le hay bale Ma devi essere un minabbra Puoi fare col water bucket E basta Nel nether Ah beh nel nether No io ti parlo No io ti parlo del nether Va bene Nel overworld C'è 8000 source In diverse Oh ciao Vi unisco Bella la gita scolata Muspeline Ma Nooo Gasta Oh eccolo Aspetta 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 Che qui ci sono Eh No no Questa lo Lo uccid E dai Dai Oh brazza Un gas Non si riesce a prendere No No Fammela provare una Aspetta Oh minchia Perché l'hai messa No Era in elmatrix Ma ho tempo Le facevo subito Porca putta Batta Chilo lo tu Non ho freddo Si ho rotto le palle No no Io ci parlo Io resto qua Sappi Lo devi sapere Proprio adesso Tu non ti alza Da toccare Il mio No Che è Non ci vedo Sasso Ha visto questa parete No aspetta È liscia È completamente liscia Ah si ho visto Guarda che fa E che boss fight Interessante Neanche al The Ring Conchiuda Io non ho parole Non so Oh ma i piglin hanno sempre il sound rotto Però Ok Mi devi un attimo passare Vabbè magari lo facciamo dopo Si stacca un quarto d'ora prima In mezz'ora ci vuole Mi devi passare il mondo Perché c'ho un'app che Tipo non riesco più a riscaricare Quindi Intanto ti faccio vedere come Vabbè mi dici come fa Bioma blu Eh T'ho appena detto che l'app Non si può più scaricare Mi passi l'app Che poi sai che mi si rompe il mondo Ti ricordo Che se lo passo su un server Di là Di qua Vabbè ma Dopo ti faccio vedere Ti spiego Ma mi potresti dare Anche le tue coordinate Che mi sono Lo stato Eh 240 Meno 1000 70 Madonna Ma quanto Camini Ma sei uno Big runner Non ti ho dato l'accidement Perché non ti ho dato l'accidement Mh Ma se sei andato nel bioma blu Perché non ti ho dato l'accidement No non ci sono andato Ci vado io Cioè Oto turista Oh cristo Ma Che cos'è Un bridge Una merda A 4 gas Penso sia un bridge Penso sia una merda Direttamente Capiccio Eh Eh Più probabile Ma quanto vai veloce Ma tipo fai 80.000 blocchi A mezzo secondo Guarda quant'è veloce Ma neanche forse Blocco d'oro Wow rarissimo Hai ottenuto la cimente Per aver rubato Grande furia Comunque è un bridge Capo Blocchi Rubo Ti devo Non lo so Devo fare Una menante O cosa Sì Per favore Dai su Ma guarda qua Talla Facci Essere in questi posti Tedeschi Madonna Cioè Li usavano il gas Non la lava Papisco Ma E Melta bene Porco Kkk 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 Dov'e Qua c'è gente Però so che c'è anche dell'oro No ma al foro. Il primo elmetto che trovi che sia in condizioni decenti ne ho dato perché mi non c'è più niente cosa c'è per cadere che non so se domandarmi perché o come ti è venuto in mente ti voglio far vedere un porta direttamente verso l'infinite guarda che bella che vai anche tu va torniamo in the over world andiamo andiamo siamo a circa 1500 blocchi 1300 sbagliato 200 blocchi adesso sei da bruciare e' inutile se hai vero porco cacca dobbiamo andare verso quella direzione aiuto ecco vedi che indica il dono ti è picchiato quello sopra e quello sotto no senti non l'ho fatta apposta era tutto calcolato ecce non ti parlo più aspetta vado a informare una persona che non lo sapevi che lui adesso non lo sapevi dimmi che lo sapevi eh si vede che lo sapevi puoi tagliare la gola ti voglio un attimo far incontrare una persona molto simpatica guarda ma perché questo scavo è proprio un vanda cioè lui imprende distrugge città paesi comunque guarda perché è scappato andiamo al bioma blu tu andrai al bioma blu e a te servirà vai non ho blocchi agli soli speed dove vai questo si avventura milani io seguo il sasso e te lo sapevi che il ned era ispirato non puoi non c'è no e ma adesso venti livelli miss oh no te metti i blocchi invisibili dimmi che ci sono i blocchi perché ho paura dai un attimo ai suonoro tranquillo che no dai che c'è lo scherzo che ti parlo io provare a beccare ad esponato ma perché metti i blocchi invisibili ogni tanto scopri ho creato un bel passaggio a parte che sa 70 65 però comunque c'è sto giocando a minecraft stream morecco condivisione su disco qualcosa sta facendo si domani ci faccio una frittella ho preso te ole no 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 idiota dai che sto morendo non riesco ad andare avanti mi aiuti ah sono bloccato dai guarda qua che bioma ti ho detto che è nord è sud devi andare a sud non al nord ma è giusto eh chissà dove guarda che è giusto eh ma io ho la strada facilità ma bro io vado più veloce io vediamo chi arriverà prima non mi interessa chi arriva prima ma chi arriva sano e salvo io salivo più sano che sano vorrei prendere un po' di blocchi diciamo che sai che siamo anche a doltezza di guarda appena uscirò da sto nether mi aspetti si prendiamo un po' di roba oh no almeno posso fare qualche build vorrei fare un magazzino perché prima o poi ci servirà però comune perché io volevo fare sotto la torre ma se lo facessimo tipo ma nella vecchia cosa si fece però condiviso anche ma te non vedi si ma lì io avevo quante c'è sto milione ma aspetta te vedi di fare un magazzino eh? vuoi far condiviso il magazzino eh penso di si abbastanza vabbè facciamoci una porta oh se potrebbe fare una bella porta in che senso? 5 per 5 che lo divide vabbè dai perché dobbiamo dividerlo? lo facciamo assieme che cosa? vabbè dai poi vediamo intanto fammi bere oh scommetti che non faccio l'accement allora che non ci siete perché vedi tu sei un po' intanto dimmi com'è il ping del server buono 89 vabbè dai dove sei salito? no qua dai l'ho ucciso che coglione guarda che la strada è tutta dritta eh letteralmente ma dove vai? è giusto oh un bastione no un portale affondato ma perché mi degenere c'ha anche guarda se zoom mi è chiaro perché ti reggina degenerà vabbè vabbè ha proprio fatto un ponte dritto non trovo intanto ma noi ci possiamo solo ma noi siamo superiori ma non ti rendi conto cioè il podere è tutto sai che non facciamo in tempo a mettere quella roba dei biomi faremo domani dai nederhatsk dammi nederhatsk blech solo questa nederhatsk vai a raccogliere nederhatsk bravo raccogliere nederhatsk almeno tre stack cosa devo droppare? no lui non lo posso droppare è troppo importante eh in che senso stand plus raccogli la nederhatsk che ho lasciato vai così puoi fare il varage vabbè con tutti puoi fare il varage eh boh il migliore per il varage secondo me cos'è? sennò c'è chi è l'aspetta star platinum definitivo dovrebbe può resettare un universo praticamente oh porco caca mi aiuti ma come scende non lo so ti piace rendermi la vita difficile ma sei troppo giù oh oh magna 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 ti fa bene oh sopravvivo forse oh lo sai che abbiamo trovato un altro bastigale cristo che vedi non ti sei preso colta nxp ti è piaciuto tu lo sai ci sai fare una calda aiuto 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 è che mi ha tolto 80.000 cuori non ho più il cuore ma cristo questo questo una pala con mende dai che palle è la mia prima pala con mende comunque è lo stesso bastione di prima no no perché ho già smeltato eh io better vanilla buildings ma ma lo sai che non ti abbia stiamo piantato 4 cioè 2 più 2 no 18 e neanche una fortezza cazzo eeeh dovremmo eeeh che cos'è un complex che si chiama stable stable però se vuoi c'è eeeh un po' di obsidia che ho una pala in diamante con mark 2 eeeh vabbè scusate qui c'è il porco mark 2 comunque sono tutti i stand di video che te non hai guardato perchè non ti guardi George? boh è bello andiamo siamo ancora belli lontani da casa c'è un tipo che fa ora 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 quindi è bello per questo aspettami hanno ancora l'util ci sono altri ho trovato del manzo che schifo blocchi d'oro ma ho visto un blocco mi provo a piazzare un blocco che ti sei oh cesta con un cazzo dentro letteralmente ma lascia con sharpness 5 che fai la lascia qui? si un'altra cesta con niente dentro devo pulire il mouse un attimo perchè è tutto sudato ma lo sai che ha veramente 20 livelli ora? mh? tutta cazzo di esperienza abbiamo fatta eh ti ho detto che quel quarzo si va su ma no ma proprio in generale cioè a uccidere persone e io ho fatto otto livelli non molto guarda tutto rotto tranne i gambani lol è un breaking 3 ok no di nuovo un ghast ma stavolta ci provo io cazzo no 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 ma perché non la ma dai ma l'hai pushato ha lì la prima e vabbè ieri davanti è come dire ehi ciao bro addiovelo oh no mi hai colpito andiamo ho capito devo eseguire aeronautica militare secondo me non ce la fai cazzo se adesso sai che ho messo veramente paura perchè adesso ho paura dei 50 blocchi poi solo ai 50 amori tutti gli altri no si 51 no ma secondo me è anche raro oh adesso la faccio il ghast ghast oh si a me non interessa il ghast adesso ghast abbiamo fatto un botto di advancement bastione mi sa che è quello di prima però questo puoi salvare che è successo era tutta terra frolla e sul cascato dove era tutta ghiaia il ghast ma beccato e sul cascato dove giù devi scendere oddio lo sai qua lì sotto si lì giù lì proprio lì giù dove c'è la ghiaia ma se chiediamo qua ci abbiamo quarto d'ora per fare il datapack no non ce la facciamo vi salvo e basta dove? aspetta che c'è dove c'è la ghiaia puoi beccarlo con la freccia io lo distribuisco ieri dove? proprio lì giù questo buco qua? si ma sono andato tipo giù di tre quindi devi andare giù di più vai prova a entrare no non ci sei niente avevo missato il buco dov'è che? dimmi le coordinate 246 29 29 meno 1 0 1 1 0 246 meno 110 no eri due blocchi più là vabbè peccato sasso può risponare e cosa hai perso alla fine di importante? l'armor? tutto l'armor che aveva le robe diamanti ti è inciantato why do you left? perchè? perchè? perchè sei leftato? e vabbè che devo fare? e rifatti le cose e ma ora tutt'al più senti cosa no? io torno a casa e domani ti aiuterò a rifare le robe oh però ci abbiamo provato eh? beh si ci abbiamo provato almeno ti ho benissimo lasciarti lì e fregarmi no cioè se eri si stato il carbone se eri si stato del colore del carbone o se è graffitoso ti piace il colore graffitoso visto? cazzo dovrebbe essere qui sopra il portale no no aspetta le coordinate del portale? ce l'ho io eeeh meno 182 aspetta 182 182 no ce l'hai 182 ce l'hai scritto in chat? ci metto di più io a avviare minecraft? non ce le ho ah mi tocca 182 e lì eh ma non me lo ricordo l'ho sbagliato l'altra 182 ci sono sarà verso di qua è tipo 256 l'altra mi pare no di là ma questo è un altro bastione o? no non c'ho voglia di andarci a piedi quindi ah perchè mi scoppia minecraft a caso? vedete ho capito l'unico gioco che mi scoppia guarda come lag a minecraft mi va a 5 fps niente mi è cresciuto minecraft entrando dovrebbe essere qui il portale qui sopra ma perchè c'è ma dai ma che palle letteralmente terminato per mancanza di tec non ha caricato le tec niente sfrutto il buco e coordinate quindi? eh non le so dovrebbe essere qua penso di averlo trovato col piccone distrutto mamma mia oggi sono stato l'unico sopravvissuto ma perchè te c'è sempre le robe incentate? eh io mi sono incentato prima e vabbè oh overworld eeeh alla fine cosa ci abbiamo guadagnato? niente boh tipo niente ah intanto io abbiamo i diamanti per rifare le cose io ci ho guadagnato dei materiali e penso basta eeeh cosa posso lasciare in chest? lo scrub e il libro bene anche la pozione per oggi può essere tutto nel prossimo episodio cosa potremmo fare? non lascerò vabbè di sicuro useremo questi 37 livelli e poi non lo so vedremo sarà una sorpresa al prossimo episodio